tutto lascia pensare che nelle relazioni umane il narcisismo sarà l'emergenza del secolo per chi non si nasconde dietro a false illusioni circa l'epoca che viviamo sembra chiaro che l'entrare in intimità profonda con un altro essere umano è il nuovo divieto è il limite che la società ha deciso di non rendere più oltrepassabile in alcun modo l'entra in intimità sembra diventato un atto di ribellione la parola letteralmente significa ritornare al bello e lo status quo di ogni epoca ha avversato soffocato ha condannato ogni atto di ribellione in questa rubrica settimanale vorrei raccontare cos'è il narcisismo già descritto da freud oltre un secolo fa e ad oggi più attuale che mai si potrebbe andare avanti probabilmente per decine di puntate talmente l'argomento è vasto anche se volendolo riassumere in una frase potremmo citare il grande poeta scrittore americano del novecento alan ginsberg quando scrisse all'inizio di un suo libro questo solitario scarabocchio è al margine dei miei sogni perché così la vita l'esistenza di un narcisista infatti paragonabile ad un solitario scarabocchio al margine dei suoi grandiosi sogni la grandiosità sognata infatti è uno dei tratti caratteristici grandiosità ma non solo ipertrofia dell'io egoismo egotismo sentirsi speciali e da ammirare assenza di empatia di senso di colpa e di rimorso invidia vergogna rabbia modalità predatorie tese allo sfruttamento ecco queste sono le caratteristiche del narcisista ma sono concetti vuoti se non vengono contestualizzati nella concretezza quotidiana e per farlo le declinerò semplificando tali caratteristiche all'interno di due sottogruppi inclusi in un ampissimo spettro di gravità del disturbo narcisistico il narcisista overt quello scoperto evidente manifesto ed il narcisista covert quello coperto vulnerabile quello suddolo nascosto e quindi estremamente più pericoloso come il protagonista del celebre romanzo di oscar wilde il ritratto di dorian gray che si trova a distorcere la realtà per identificarsi in un dipinto che lo ritrae giovane bello mentre verità e vecchio e in parabola discendente anche il narcisista ha una percezione dell'immagine di sé distorta di questo parlerò quando tratteremo la questione dell'immagine di sé del falso sé il narcisista ha una percezione della sua immagine completamente alterata alla quale tuttavia si allinea per non soccombere per questo motivo il narcisista indossa costantemente maschere diverse a seconda del contesto trasformando la sua esistenza in un triste simulacro di fatto l'esistenza del narcisista è uno simoro il sé grandioso nasconde una realtà vuota ombrosa perduta anche oscar wilde ce l'ha avvertito dorian doriano in italiano etimologicamente significa dono oro oro prezioso luccichio mentre gray grigio in italiano deriva dal germanico e significa canuto brizzolato vecchio uno simoro insomma per sostenere la grandiosità distorta dell'immagine di sé senza la quale soccomberebbe il narcisista ha bisogno di costanti conferme dall'esterno conferme delle quali è affamato e di cui si deve nutrire quando affronteremo la questione del rifornimento energetico vi vi parlerò di questo parlerò cioè del motivo per il quale il narcisista pone in essere le sue modalità predatorie spesso riuscendo a distruggere le sue cosiddette vittime per sostenere infatti la falsa immagine di sé quell'immagine che lui si è creato il narcisista deve costantemente nutrirsi di persone contesti situazioni che confermino questa immagine e per farlo come ogni predatore non bade in alcun modo alle macerie che nel suo incedere lascia alle spalle creandosi una rete di punti energetici persone luoghi situazioni ecco punti energetici nei quali fare riferimento egli cerca di garantirsi un costante nutrimento ed anche si va di bene una sufficiente riserva di energia qualora alcuni di questi punti energetici non fossero utilizzabili temporaneamente o definitivamente nutrirsi è l'unico modo che il narcisista ha per permanere nella sua illusione e dunque per non morire per non vedersi costretto a togliersi la maschera mostrando al mondo il suo vero sé pur di nutrirsi il narcisista è disposto a tutto dunque le sue emozioni si modellano di conseguenza quando parleremo delle emozioni del narcisista spiegherò cosa e muove ovvero muover verso come la parola e mozione dice ecco cosa e muove veramente il narcisista pur di sfuggire dalla noia che lo obbligherebbe a guardarsi dentro e gli sviluppa emozioni quali rabbia competitività invidia vergogna mentre ne ha ad ombra altre infatti emozioni quali l'empatia il senso di colpa il rimorso sono carenti o assenti generando così nel narcisista un diverso senso della morale che lo rende incapace di percepire le emozioni e i sentimenti dell'altro la necessità di rifornirsi costantemente di energia diventa l'unico scopo del narcisista e per rendere certo il nutrimento egli ha bisogno di affidarsi a uno schema ripetitivo e sicuro il cosiddetto ciclo del narcisista uno schema questo che si ripete costantemente ad ogni incontro in ogni relazione in ogni situazione e così com'è ripetitivo il ciclo della semina e del raccolto la maggior parte degli autori ritiene che il narcisista sia un cacciatore non sbagliando ma forse sono influenzati dal mito di narciso narciso era un cacciatore o forse perché il cacciatore uccide le sue prede per nutrirse ma le battute di caccia possono andare a vuoto e il narcisista non può in alcun modo permettersi di rimanere senza nutrimento per questo diversamente da altri autori ritengo che il narcisista assomigli più a un agricoltore che con una strategia precisa e con una serie di tattiche garantisce a se stesso la certezza del nutrimento esattamente come il ciclo della semina e del raccolto anche da un punto di vista storico infatti è stata la nascita dell'agricoltura e non la primitiva caccia a far evolvere l'umanità perché come dire nasceva un sistema strategico che garantisse una rilevante certezza di costante nutrimento questa l'agricoltura e quindi quando nelle prossime puntate parleremo delle quattro fasi della relazione narcisistica ci interrogheremo proprio su questo ciclo ciclo che è composto da quattro fasi principali il cosiddetto love bombing ovvero la fase della idealizzazione il gaslighting ovvero la fase della salutazione e poi la fase dello scarto l'enskart e ancora la fase del ripescaggio l'overing in un continuo costante ciclo il narcisista è quindi un mostro no niente affatto e sebbene compia azioni mostruose il narcisista è la risultante del tentativo fallito di guarire da traumi infantili le cosiddette ferite narcisistiche dalle stesse ferite si va di bene nasce anche la personalità dipendente e ne parleremo affrontando le caratteristiche delle persone che si prestano ad essere il perfetto nutrimento per il narcisista cioè la personalità dipendente impropriamente definita vittima indagare e capire i bambini che sono stati narcisisti e dipendenti affettivi ci consente di comprendere le cause che hanno generato quelle ferite perché essi hanno percorso strade così diverse i dipendenti affettivi narcisisti eppure complementari nel diventare adulti come di fronte a un bivio il bambino ferito ha reagito in modi opposti al dolore inferto dal mondo dove per mondo si intende necessariamente il mondo familiare i genitori all'inizio e sono in seguito il mondo circostante dunque narcisisti dipendenti affettivi sono stati originariamente bambini che condividevano la paura ancestrale che ogni bambino prova e non è la solitudine infatti i bambini più che la solitudine temono l'abbandono il tentativo di comprendere e spiegare l'origine del narcisismo non giustifica in alcun modo in alcun modo il dolore e la manipolazione l'abuso e la violenza che il narcisista infligge le sue cosiddette vittime parleremo a lungo nelle puntate di questa rubrica della strategia del narcisista e delle tattiche che egli adotta e ci addentreremo così nell'esperienza del dolore e dell'abuso se come abbiamo visto l'unica strategia del narcisista è quella di avere costantemente approvvigionamento energetico per il suo nutrimento le tattiche per porre in essere questo piano sono molteplici ed estremamente abusanti ne descriverò almeno una ventina dalle più classiche ad esempio la proiezione la negazione il rinforzo intermittente la dissonanza cognitiva il trattamento del silenzio a quelle di più recente descrizione quali la desessualizzazione o il future faking inoltre introdurrò due nuovi concetti che a mio modo di vedere ben si collocano tra le tattiche del narcisista che è la tattica dell'alveare e quella delle pompe di benzina ne parleremo tutte queste tattiche hanno uno scopo ben preciso quello di creare dipendenza un vero e proprio craving ovvero di innescare un desiderio tossico della sostanza emotiva non della droga non del gioco però il principio lo stesso il craving è la dipendenza verso la sostanza in questo caso parliamo di sostanza emotiva quella sostanza emotiva da cui le cosiddette vittime diventano dipendenti e che il narcisista è ben in grado di proporre proprio per creare quel meccanismo di dipendenza il narcisista lega così a sé le proprie prede assicurandosi d'esse l'approvvigionamento energetico necessario almeno fino a quando la noia non lo padroneggerà di nuovo portandolo a scartare improvvisamente la sua preda ormai esanue spolpata generando in essa un trauma d'abbandono estremamente doloroso fondamentale sarà parlare di sessualità e tradimento se come abbiamo detto è vero che i bambini che siamo stati hanno temuto l'abbandono più che la solitudine sessualità e tradimento custodiscono il fulcro dell'idea d'abbandono nella sopravenuta età adulta e il motivo è molto molto semplice il sesso è il significante supremo che definisce l'intimità esclusiva di una coppia e il tradimento è disattendere questa esclusività sfiduciandola tradire significa quindi far vivere al bambino l'idea dell'abbandono e quindi quella ferita non discuteremo se questo è giusto o sbagliato questo è questo è ciò che accade al bambino che ancora piange in noi se non sappiamo prenderlo per mano quando l'idea che è un'idea di esclusività della relazione viene compromessa piuttosto discuteremo del fatto che ridurre al sesso e al tradimento sessuale l'intera esperienza dell'esclusività e dell'abbandono è esattamente la tattica più abusante per generare quel craving emotivo ed è per questo che il partner del narcisista deve provare ad emanciparsi da questa idea perché questa non è un'idea o un valore ma un'installazione aliena cioè esterna culturale conficcata tra le emozioni dei bambini che siamo stati e dunque in questa rubrica sosterrò queste due tesi fondamentali uno il narcisista non è in grado di fare l'amore perché non è in grado di amare e due il narcisista tradisce sempre il tema è molto dibattuto tra gli autori e ricercatori e terapeuti tuttavia cercherò di risolvere in modo definitivo la questione infatti esploreremo la relazione oggettuale che il narcisista ha con tutti gli esseri umani motivo per cui se gli altri esseri umani sono per lui oggetti e tali sono la sessualità del narcisista si riduce sempre a mera masturbazione perché usa gli altri come oggetti inoltre se è vero che il narcisista specialmente il covert non sempre tradisce sessualmente il partner è altrettanto vero che lo tradisce sempre in modo emozionale tramite il tradimento emotivo e il tradimento bianco e ci arriveremo finendo per tradire sempre è solo se stesso questo fa il narcisista ed il tradimento emozionale è il tema che i bambini che siamo stati sentono come dolore lancinante ma perché oggi si parlano di qualcosa che freud descrisse oltre un secolo fa normalmente si parla di ciò che è attuale a livello sociale culturale e indubbiamente il narcisismo lo è in una società che è progressivamente passata nei millenni dall'organizzazione in clan a quella monofamiliare il narcisismo è la risposta convalidata dalla cultura dei paesi a capitalismo avanzato ulteriore frammentazione dell'esperienza sociale ed emotiva il narcisismo è la celebrazione dell'ipertrofia dell'io tramite la distorsione dell'immagine di sé il social network ne sono un esempio ed è il modo migliore per garantire il divida e timpera ulteriore forma di controllo del potere anche di questo parleremo ci addentreremo infine nei temi della cura e della guarigione dei narcisisti e dei dipendenti affettivi la maggior parte degli autori concorda sul fatto che i dipendenti affettivi possono curarsi efficacemente e guarire tramite psicoterapia counseling tematizzando ciò che a loro accade mentre per ciò che concerne i narcisisti il parere quasi unanime è che sono tanto più incurabili e inguaribili quanto più la distorsione del sé è pronunciata come abbiamo detto il narcisismo si colloca dentro uno spettro tuttavia avvalendomi anche del mito di narciso e analizzando le suggestioni del film shutter island tenterò di definire un orizzonte di cura possibile anche per il narcisista che fin da qui provo a definire come nemesi terapia nemesi una delle figure del mito di narciso se volete scrivermi chiedere approfondimenti e quant'altro questa è la mia mail scrivetemi pure oppure commentate sotto questo video alla prossima puntata